Ciao a tutti, testrimardo.com, quest'oggi andiamo a fare l'unboxing della Asus GTX960 Strix Edition. Nuova scheda video di Asus che va a coprire la fascia media del mercato e va direttamente a scontrarsi con la Radeon R9285. Come possiamo vedere dalla confezione, nella parte frontale abbiamo il logo Asus e il logo Strix e nella parte centrale abbiamo questa grande immagine del gufo che caratterizza la serie Strix di Asus e di fianco troviamo la dicitura DirectCO2 che ci segnala che questa scheda video è equipaggiata con il dissipatore proprietario di Asus che garantisce un 20% di raffreddamento della scheda video rispetto alla soluzione reference. Più in basso abbiamo un'immagine del dissipatore scomposto, come possiamo vedere abbiamo 4 heatpipes a diretto contatto con la GPU e più in basso troviamo alcune caratteristiche della scheda della scheda come il bollino che ci indica questa scheda video per colcata di fabbrica, abbiamo 2 GB di memoria che equipaggia questa scheda, abbiamo modalità silent gaming cioè 0 decibel, riusciremo a giocare alcuni giochi senza che le venti si azioneranno, inoltre abbiamo il Super Alloy Power che caratterizza la sezione VRM della scheda. Di fianco abbiamo il nome della serie GTX 960, al di sotto del quale troviamo alcune tecnologie supportate dal prodotto. Nella parte posteriore invece troviamo alcune informazioni più interessanti e più dettagliate sul prodotto, abbiamo alcuni di Tascalie, nello specifico 3 di Tascalie, una dedicata al dissipatore DirectCO2, alla tecnologia 0 decibel fan, abbiamo una di Tascalie dedicata al Super Alloy Power, quindi abbiamo componenti specifici ASUS per garantire una migliore erogazione della corrente alla GPU e anche una temperatura più bassa della sezione alimentazione e inoltre abbiamo una di Tascalie dedicata al software di overclock e gestione della scheda di ASUS GPU Tweak. Più in basso troviamo le specifiche della scheda e inoltre troviamo specificate le varie uscite video della scheda stessa e una piccola immagine della scheda. Di fianco troviamo le certificazioni del prodotto e inoltre ci è segnalato che la scheda è accompagnata da 3 anni di garanzia. Apriamo la confezione e come ci ho ormai abituato ASUS da qualche anno, al di tutto del cartone più esterno troviamo un'altra confezione di colore nero con il logo ASUS e dal, caratterizzato da logo ASUS dorato e dal motto dell'azienda. Aprendo anche questa confezione cosa troviamo? Prima di tutto la scheda protetta all'interno di questa spugna anti-urto e busta anti-elettricità statica e inoltre troviamo il bundle. Allora, al bundle è così composto abbiamo manuale di installazione rapida, il CD driver, lo sticker Strix e un adattatore DVI-WGA. Prendiamo la scheda. Allora, ecco qui la scheda, come possiamo vedere è davvero compatta, infatti facciamo uno zoom. Allora, come possiamo vedere la scheda è caratterizzata con una cover in plastica di colore nero opaco e caratterizzata da alcuni disegni tribali presenti sia nelle ventre sia nella parte centrale della cover. Abbiamo il logo ASUS in basso rilevo nella parte bassa a sinistra della scheda. Abbiamo queste due piccole ventre, dovrebbero essere da 70 mm, sono da 75 mm, che hanno il compito di raffreddare il radiatore in alluminio sottostante. Come possiamo vedere inoltre abbiamo 4 heatpipes, 2 da 6 mm e 2 da 8 mm, che trasferiscono il calore dalla GPU al dissipatore in alluminio che verrà raffreddato da questi due ventori che trovano la loro struttura portante nel dissipatore e nella cover. Come possiamo vedere inoltre nella parte superiore abbiamo il PCB della scheda, che è molto più piccolo, molto più corto della lunghezza del dissipatore, abbiamo l'unico connettore di alimentazione 6 pin e inoltre abbiamo l'unico connettore per lo slide, quindi possiamo mettere al massimo due schede in parallelo. Sulla cover in plastica troviamo il logo Strix di colore bianco. Nella parte posteriore invece cosa troviamo? Troviamo questo bel backplate in metallo caratterizzato da una rifinitura spazzolata di colore nero. Abbiamo il logo ASUS in grigio e inoltre abbiamo questo piccolo spazio per permetterci di inserire il connettore per lo slide. Come abbiamo già detto il PCB e lo stesso backplate sono molto più corti rispetto alla lunghezza del dissipatore stesso. Qui notiamo il cavo di alimentazione per le ventole ed inoltre notiamo il connettore PCI Express 3.0. Come possiamo vedere non sono presenti bollini di garanzia sulle viti posteriori, quindi possiamo smontare la scheda senza perdere la garanzia, quindi possiamo cambiare pasta termica o mettergli un water block. Inoltre come possiamo vedere abbiamo sotto il connettore di alimentazione della scheda che oltre ad essere rovesciato rispetto al normale in modo da permetterci di inserire il pinio all'alimentazione altrimenti andremo a sbattere contro la cover il dissipatore. Notiamo che sono presenti due led che si illumineranno in maniera alternata a seconda se la scheda sia alimentata correttamente o no. Si illuminerà di rosso quando la scheda non è alimentata correttamente e di bianco quando lo sarà correttamente. Nella parte inferiore possiamo notare meglio le 4 heat pipes in rame nichelate che hanno il compito di raffreddare la GPU. E quanto riguarda invece le uscite video abbiamo ormai uno standard per tutte le schede video GTX 900 che sono un uscita DVI, un HDMI 2.0 e 3 display port. Inoltre possiamo notare che il PCB e il dissipatore stesso sono molto più alti rispetto allo standard quindi dovremo prestare attenzione quando montiamo questa scheda all'interno del nostro case. Allora per parlare un po' di specifiche tecniche questa scheda è caratterizzata da una GPU che possiede 1024 CUDA Corts che operano alla frequenza di 1317 MHz in boost clock e 1253 MHz in boost clock. Inoltre abbiamo una frequenza per memoria di 7200 MHz e una memory interface di 128 bit. Inoltre le dimensioni sono di 21,5 cm x 12,1 cm x 4 cm. Dopo questo video preview è un piccolo unboxing. Possiamo dire che è davvero tutto. Il link della recensione sarà messo al di sotto di questo video quindi vi preghiamo di darci un occhio per vedere i vari test e foto più dettagliate sul prodotto. Quindi dallo staff di Streamardware è tutto e al prossimo video unboxing. Ciao!